Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 20 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Segno fortunato. Guai a chi critica i vostri figlioletti. Il sole cancerino intrigono al vostro segno, è un chiaro indizio di affettività matura e risolta, adorate il partner e volete un gran bene ai vostri figli, senza pretendere di trasformarli in modelli ideali come fanno parecchi tra parenti e vicini. Accettate chiunque sia venuto al mondo per quello che è, con i suoi talenti e le sue pecche, se qualcuno degli amici critica apertamente i vostri pargoli diventate squali combattivi, altro che innocui pesciolini rossi. Belle novità online messe in rete da Urano, una sorpresa che inizialmente vi sconcerta ma poi non potrà farvi che piacere. Accettate un invito o rispondete a una mail, finalmente le cose imboccano la giusta direzione. Potrebbe iniziare una nuova storia d'amore, a tratti molto profonda, diremmo quasi platonica. Oggi potrebbero esserci dei cambiamenti repentini e qualche imprevisto in giornata. Imprevisti che non è detto che siano solo negativi. In giornata qualcosa cambierà improvvisamente e repentinamente. Occhio alle bollette in ritardo, cercate di pagare più in fretta possibile. Prudenza alla guida dell'auto o della moto. Oggi alla vita potrete chiedere di tutto, è un momento favorevole anche se non mancano gli imprevisti e i contrattempi. Una persona non è affatto sincera con te, cerca di fartene una ragione e di soprassedere. Un amico ti svelerà un segreto. Oggi subirete un torto anche se poi resterete soddisfatti dalla sorte che è toccato a chi vi ha fatto quello. Tuttavia ricordate, il perdono è gratis, sempre. Se vivete una relazione extra e non vi soddisfa, pensate piuttosto che è la relazione stabile che è in crisi, volete aggiungere crisi su crisi? Meglio rinviare ogni decisione soprattutto in amore, non sarete dell'umore adatto per prendere decisioni importanti e definitive, quindi, meglio rinviarle. Poche speranze per chi oggi attende una notizia di una certa importanza, tutto è rinviato a domani o alle settimana successiva. Attimi di pura distensione con qualcuno con cui in precedenza avevate discusso e non poco, questo dovrebbe bastare per giungere a un chiarimento e determinare un accordo. Il sole dell'amore sta per entrare nella vostra vita, vi sentirete innamorate anche se l'amore, a volte, ha piccole sofferenze in sé. Il sole e urano formano un aspetto favoloso tra di loro e insegni per voi molto congeniali, il cancro e il toro, finalmente siete liberi e leggeri come il vento per ogni tipo di impresa vogliate compiere. Non vi mancheranno né la sfida, né l'imprevisto, con un pizzico di avventura. Vi lasciate saltare da questa giornata che contiene tutti gli ingredienti per diventare avvincente e indimenticabile. Anche dormendo in sogno fate progetti di lavoro, viaggio, cambio di immagine, di casa, di vita. Poi però la luna in sagittario, fantasiosa ma inconcludente allo zenit, cede il passo alla sua versione più prudente e concreta in capricorno. Sarà da colleghi o amici che riceverete dritte preziose per velocizzare le incombenze in agenda e puntare alla località che intendete raggiungere già in serata valendovi di un percorso alternativo, fortunatamente. Amore ed Eros. Felici per il ritorno di un figlio da un paese lontano, dove è rimasto a lungo per studio o lavoro, ma finalmente riavrete il vostro cucciolone da coccolare, subito in cucina a preparargli i suoi piatti preferito. Supporto sia emotivo sia economico a un amico al quale volete molto bene, ne avete condivise di esperienze. E se ora lui è finito nei guai, il minimo che possiate fare per ripagarlo del vostro solido rapporto e dargli una mano. Siete nati nella terza decade? Marte vi invoglia a essere più presenti nel quotidiano con la vostra dolce metà. Accogliete la sua proposta e non fuggite verso le sirene della carriera, degli impegni lavorativi, che spesso vengono usati come alebi per non amare veramente. Nella corsa verso il successo, nel proiettarvi in tanti progetti di conquista, concedevi pure ora una tregua. Vi lasciate accarezzare dal confort degli affetti familiari, che condividerete insieme alla vostra o al vostro partner di sempre, quest'oggi. Confort che vi ricarica di benessere nel nido della quiete domestica. Lavoro e denaro? Creatività in primo piano, quando le idee prendono a corrervi tra le circonvoluzioni cerebrali, non avete tempo da perdere, blocco di appunti alla mano, fissatele subito sulla carta, sono preziose ma così volatili che in un nanosecondo se ne fuggono via come farfalle impazzite. Vi guadagnerete la stima e la fiducia generale, riuscendo a garantirvi spazi in cui poter esercitare la vostra autorevolezza. Saturno spiana i vostri passi nella carriera. Questa ipotesi sarà più valida e verificabile se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Benessere. Sereni e soddisfatti, ma soprattutto grati alla vita per la fortuna che vi è capitata. Soldoni. Viaggi stratosferici. Casdano a babbi. Magari anche ma la cosa più bella, per la quale vi sentite davvero ricchi è l'amore che vi circonda. Denaro. Con Giove Ostile dovrete fare più attenzione a come spendete il vostro denaro, specie se siete nati dal 22 al 27 di febbraio. Non vi lanciate nel vostro sport preferito, che per le signore del segno, è lo shopping selvaggio. Per lei, messaggino intrigante da un uomo che vi stuzzica parecchio, ma per il momento non avete ancora trovato il coraggio di farvi avanti. Rispondere sarà più facile. Per lui, pochi amici ma buoni, con loro fate di tutto, svaghi serali quando c'è l'opportunità, ma anche bi e i progetti di lavoro e discussioni culturali interessanti. Teneteveli cari, un vero amico vale un tesoro. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.